avrete visto gli splendidi gioielli in esposizione sul ponte vecchio ma solo qui a prato si possono osservare i minerali nel loro stato puro fai un salto nello spazio al museo di scienze planetarie a prato corridoi morbidi e misteriosi ti portano in orbita con i pianeti attraverso esposizioni interattive che dispongono di schermi e cuffie individuali vuoi vedere l'inizio dell'universo tira la tenda ed entra in un mini planetario mentre la musica sale e le immagini guizzano davanti a te sarai trasportato in un viaggio incredibile alla scoperta della formazione di stelle e pianeti il museo offre visite guidate per tutte le età e le esigenze dall'aspirante galileo al turista curioso il meteorite più grande che esiste in italia pezzi della luna e delle stelle riempiono la sala principale del museo questa scatola dei tesori di cristalli e pietre preziose vale già in sé il viaggio ricordati che bastano 30 minuti in treno per arrivare a prato da firenze museo di scienze planetarie emilia carlson c10